Fuori privati dall'area di risulta, questa è la proposta della compagine pescarese del Movimento 5 Stelle, in evidente discontinuità coi progetti dell'attuale amministrazione di centrodestra e quella precedente di centrosinistra. È un'idea rivoluzionaria che fa risparmiare soldi alla città, le parole di Erika Alessandrini. Noi vogliamo essere rivoluzionari perché possiamo riqualificare il centro della città semplicemente spendendo i soldi pubblici che abbiamo a disposizione. Abbiamo 12 milioni di euro del masterplan che erano quelli già previsti fino allo scorso anno. Si sono aggiunti a questi 3 milioni e 900 mila euro che vengono spostati dall'ampliamento del Museo del Mare e a questi si aggiungono 2 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Pescara Abruzzo. Questi 17 milioni e 900 mila euro sono utili a cambiare il volto del centro città perché sono soldi pubblici con i quali si può realizzare tutto il parco centrale, si possono realizzare e rinnovare le due stazioni degli autobus, si può creare il silo su sud da 900 posti e si può bonificare per 3 milioni tutta l'area di risulta. Ebbene, quindi si può fare un progetto di riqualificazione estromettendo completamente il privato, eliminando le privatizzazioni che si prevedono per i prossimi 20 anni, cambiando il volto della città e dando finalmente un senso e una riqualificazione al nostro cuore pulsante cittadino che aspetta da troppo tempo di essere riqualificato. La proposta approderà lunedì in Consiglio Comunale, in ballo la privatizzazione dell'area di risulta. Se la destra ha intenzione di votare no, di bocciarlo, vorrà dire chiaramente che l'interesse della destra è solo la vanagloria di voler mettere la firma su questo progetto e la volontà di voler consegnare nelle mani di un privato per 20 anni la nostra città.